ben ragazzi qui ferrari games e oggi faremo questo video di minecraft allora ho fatto un nuovo mondo chiamandolo ferrari games 2 voglio fare questa nuova serie ragazzi allora innanzitutto scusate che è già di botta e così via sono venuto allora io vorrei chiedere se non si comincerò questa nuova serie di minecraft perchè ferrari games lo continuo a stare tranquilli però non più nel ferrari games tipo quello normale continuo in quello costruiamo, craftiamoci le cose continuo da quello lì perchè non è creativa è l'unica cosa e ho dovuto decidere fare un ferrari games 2 però senza creativo quindi da solo e sono spawnata in questa zona, questa forestina, per me piace e direi di fare un bunker quindi craftiamoci queste cose qua e facciamo anche un bunker ok ma anche questo buono buono allora mi ho trovato, io sto trovando con questa cosa qua, quindi questo, 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 questo ottimo vedete prendo queste torce e questa cassa così un bunkerllo è per la sicurezza ok allora qua e chiedere di cominciare a scavare a pietra ok sarà un pochino noioso questa parte ancora un po' ok direi che così va bene oppure forse è stata una cazzata forse direi che sì quindi mi è venuto proprio questa idea di fare questo mini bunker forse allora aspettate mettiamo i ciotoli ok allora e se invece lo facciamo un altro di vestiti allora lo facciamo così la 3 poi così si scende fino a che si può ok questo lo spaccarò per forza ok direi di mettere anche le torce da una disti bambini qua che stanno urlando da una prima torcia ok direi di mettere anche una qui va bene piccone no aspettate allora così la riscende per di qua per così per questa di qua per così va bene la torcia allora aspettate mettiamo la torcia in qua ok poi facciamoci una crafting però prima di farci la crafting facciamo la porta perché qui dovrei chiudere quindi mettiamoci anche allora prima facciamo la porta quindi crafting alla mano mettiamoci qui facciamo la porta velocemente che si viene voi sono fottuti quindi aspettate perché sto picchiando perché sto picchiando la crafting così via non lo so allora questa possiamo anche spostarla e mettere realmente quanto la stacco voilà ok in questo modo quando dobbiamo uscire facciamo così ho un po' copiato anche la tua idea Lori mi sponsorizzate con questo canale Lori Universe e scusa adesso faccio un tema mi scuso perché Lori Universe ha fatto la sua stessa cosa così e qua c'è qua c'è la porta ok devo per forza metterlo di sopra va bene si si ok allora spostiamo non ti ho fatto questo qua va bene ah no era questo va bene spacchiamo l'altro qua così siamo pari via 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 dentro dentro rimbarichiamoci dentro ok allora io direi adesso di prendere il crafting e bucare un attimo qui allora facciamo che bucchiamo tutto qua così e ci buttiamo dentro così quando vuoi entrare chi sarà questa cosa qui poi prima cosa piccone ok in pietra troveriamo anche il ferro che ci servirà ok ok allora si entra facciamo che qui ok allora bucchiamo tutto no c'è anche la ghiaia qua che sfiga perché c'è la ghiaia che palle scusate ma no allora devo andare avanti ragazzi scusate ma dovrò andare avanti un pochino almeno ok speriamo già che trovi un po' di carbone perché se no ok direi inizialo qui va bene oggi ho una volta posizionata quindi speriamo di non ritrovarci ancora la ghiaia andiamo avanti qui ok qua c'è anche un po' di terra buono significa che c'è carbone o no una caverna no non subito non lascio la caverna ecco benissimo bene segno di caverna vabbè intanto ho visto che qui va bene quindi possiamo farlo ok allora bucchiamo qua guarda realmente male questo video ok ragazzi abbiamo un piccolo problema uno avrei in mente di buccare tutto questo però adesso che è buio devo spaccare qualche torcia quindi io direi di togliere queste qua qualche tanto adesso non mi servono poi c'è luce anche a sufficienza quindi entriamo ok 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 adesso mi sono più sicuro potremmo sto benedetto carbone per piacere non c'è niente al giorno mi cazzo dopo richiuderemo tutto ferro 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 bene bene ottimo il ferro mi serve un casino ragazzi wow 6 pezzi buono molto buono ragazzi siamo già col ferro 7 pezzi 7 pezzi l'ho sbagliata io visto che ci sono di cazzo questo qua la 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 va bene oh ah scusate cioè c'è tutta questa terra qua per segnalare che c'è un po' di ferro un po' è che però visto che c'è tanta così ci deve essere un po' di carbone spero non me ne serve tanto almeno per il momento spero che c'è il carbone un po' di carbone chiedo niente scavare quelle mani sulla terra è veramente noioso ok sto scavando tutto questo qua perché mi serve stato benedito carbone e se non lo trovo qui dovrò andare a farsi quella caverna lì almeno spero ma perché quando fanno i bunker trovo sempre delle caverne eh vabbè comunque vabbè 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 non c'è sto carbone basta non c'è come mia solita sfortuna non c'è ma che bello per però che non c'è perché è solo i pitziati che puoi introdurre è proprio l'incazzato Perché sono una mucca? Cioè mi si è spattato il piccone, wow, un record. No, no è già notte. Cioè a me sarà una pecora e lei è già notte. Ma il cacchio fai se è già notte? Notte, buonanotte. Ok, allora, direi di continuare, fare un'altra bocchina e poi via. Ok, qua possiamo bucare tutto, ok, via. Questa sarà l'endetta principale. Che stranamente c'è della chiaia. Torce qua. Questa è la chiaia. non so se non parlo però mi muoio un po' ragazzi quando sono stati 10 iscritti mi sono sentito 4 quindi avrei già un record farò uno speciale di GTA 5 quindi farò tipo un mini cazzeggione cazzeggio mettiamolo così in cui andremo senza trucchi e spaccheremo lo santos cioè che proveremo un pochino a fare il casinista allora io direi che apriamo un'altra falla per fare pareggiare questa è la 2 ok apriamo anche qui il carbone non ce l'hai visto aprivi un altro po' ok ma io vi chiedo perchè avete la ghiaia? si è vero che nei mondi reali c'è la ghiaia però è abbastanza noia sai ok ok quanto siamo già? 13 minuti però sta cagata qua wow va bene ragazzi direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ci ciao Ciao!